Dopo due giorni di dibattito in commissione sulla legge di stabilità abbiamo scoperto che gli annunci del Premier non si stanno concretizzando. Non c'è il bonus cultura, non c'è l'investimento sulla sicurezza che aveva annunciato. Siamo stati noi oggi a proporlo e abbiamo tenuto in sospeso la discussione. Non ci sono tante cose rimaste assolutamente in sospeso. Tante proposte anche nostre, soprattutto nostre, rimaste in sospeso come quelle che riguardano l'azzeramento dei costi bancari, delle commissioni bancarie per alcune operazioni. Rimaniamo qui in attesa che il Presidente del Consiglio concretizzi almeno qualcosa di tutto quello che ha detto in questi ultimi due mesi. Rimaniamo in attesa in una situazione abbastanza imbarazzante dove il Governo non ha in mano nessuna proposta, dove la maggioranza continua a discutere praticamente del nulla. L'unica cosa che abbiamo concretizzato, che hanno concretizzato in questi due giorni, sono che dal 1 gennaio del 2016 si pagherà il canone RAI in bolletta elettrica, costringendo praticamente tutti, come in una dittatura, a guardare una televisione, a guardare tutti la RAI. e l'altra cosa è che a danno dei risparmiatori, degli obbligazionisti che hanno investito nelle banche, nelle quattro banche di cui tratta il decreto del Governo, gli amministratori non hanno nessuna responsabilità. Per cui il Governo salva gli amministratori delle banche a danno dei risparmiatori che ne pagano le conseguenze e tutto questo è quello che fin d'oggi ha partorito questo stranissimo Governo che non è così attento né all'economia reale né ai bisogni reali della gente.